Un saluto a tutti gli amici di Io Compro Toscano, sono Ero Stetti, il fondatore del gruppo e come promesso al raggiungimento dei 50.000 iscritti avrei fatto questo video. Questo è un primo video che facciamo per iniziare a riflettere insieme, dopo aver fatto una brevissima diretta sul futuro di questo gruppo, questo grande gruppo, perché comunque ha riscosso tantissime adesioni in pochissimo tempo, questo è un grande risultato e complimentiamoci tutti, tutti assieme, perché comunque stiamo creando una comunità e non è una cosa unideriazionale, ma è una cosa che ha un senso di gruppo e è fondamentale iniziare a riflettere sul futuro di questa campagna che è nata durante l'emergenza Covid, anche se poi il nostro lavoro viene da più lontano, perché comunque stiamo io e tanta altra gente intorno a me, stavamo lavorando comunque alla costruzione di un'economia, di una rete locale, soprattutto nella Toscana del Nord, però da tempo riflettevamo di poterla ampliare anche a tutta la Toscana e ha senso rifletterne oggi più che mai per una questione di, non solo per l'emergenza che viviamo, ma per l'emergenza economica che i territori stanno vivendo, già da prima del Covid, ma soprattutto anche ora e dopo, spero di sbagliarmi, ma la situazione si presenta davvero difficile, complessa, dura e in questo purtroppo la piccola distribuzione, le piccole aziende, eccetera, eccetera, si trovano le più sacrificate, anche perché spesso facevano riferimento alla ristorazione, la ristorazione sta vivendo anche essa purtroppo un dramma grande, quindi insomma dovremmo riflettere insieme, auto-organizzandoci anche come poter uscire da questa impasse terribile. Nessuno ha le soluzioni in tasca, ma indubbiamente fare un fronte comune, una rete territoriale, può darci una forza maggiore, una forza maggiore a livello di contrattazione, una forza maggiore a livello di costruzione di rete, perché comunque è importante che ci sia un lavoro di auto-organizzazione dietro a tutto questo. E quindi la nostra idea è di iniziare oggi un percorso, quindi dobbiamo continuare a far crescere il gruppo, tutti noi, continuare a farlo espandere e a trovare il modo affinché tutti trovino il loro posto all'interno di questa rete che si sta creando. In questo periodo ho visto un po' di batti vecchi fra le aziende, alcuni hobbisti che hanno scritto che evidentemente creano purtroppo anche una competizione anche tra virgolette sleale con le aziende che sono più strutturate, che quindi hanno dei costi fissi enormi, hanno la necessità di dover fare altri tipi di scelte, altri prezzi eccetera eccetera. Quindi vorremmo rifletterne tutti assieme, vorremmo evitare la guerra tra poveri, vorremmo cercare una dimensione di futuro diversa per il nostro territorio. Siamo convinti che se le piccole aziende, il piccolo commercio si strutturano e iniziano a ragionare poi le persone ricepiscono, vedete come la campagna è cresciuta in fretta, tantissimi toscani che si sono iscritti al gruppo e non sono tutte persone che hanno un'azienda, sono persone che sono intenzionate a comprare Toscano, che si rendono conto che la grande distribuzione offre loro purtroppo in modo organizzato però prodotti che non hanno la stessa qualità, che non lasciano economie sul territorio e non hanno ricadute. Quindi su tutto questo aspetto il periodo sembra maturo e sembra ottimo e non dobbiamo pensare o lasciare passare il momento o pensare che si stia ritornando alla cosiddetta normalità o anormalità per qualcuno e fregarcene e non continuare questo percorso, anzi oggi più che mai questo percorso ha un senso ed una validità per ricostruire i nostri territori, le nostre comunità, per ricreare un'economia locale, per ridare valore ai prodotti veri del territorio perché una società dove chi produce gli alimenti per tutti sia l'ultimo della fila è ovviamente una società che ha qualcosa di malato, ha qualcosa che non va. Quindi dobbiamo ripartire da lì, dobbiamo ripartire dalla grandezza di questa Toscana. In ultimo dico che mi dispiace per gli amici del turismo, abbiamo creato un altro gruppo che è Io Soggiorno Toscano e l'abbiamo dovuto fare perché la forza comunicativa del turismo che è tra i settori che per primi hanno usato la forza di internet, la forza del web per lanciarsi online sovrasta a tutti quanti, quindi c'è un uso chiaramente, uno sbilanciamento molto forte. Abbiamo preferito creare un gruppo chiuso Io Soggiorno Toscano in modo che le persone possano andare lì e fare le loro richieste di soggiorni, in quel caso commentare, in quel caso farsi offerte, fare proposte eccetera eccetera. Anche quello è fondamentale, anche perché vorremmo poi rincludere e includere, non che non si sentano esclusi, gli amici del turismo in tutta questa, turismo in prevalenza mi riferisco alla ricettività insomma, che facciano anzi la differenza, che diventino dei propulsori loro stessi della rete Io Compro Toscano. Queste sono le nostre idee, in descrizione del video vi lascio il link anche a un form se siete aziende o anche persone che comunque fanno parte di associazioni, gruppi, comitati paesani o anche singole persone che sono interessate però a lavorare e collaborare alla costruzione di questa rete di Io Compro Toscano vi potete scrivere. Al contempo vi lascio tutto quanto è necessario nella descrizione in modo che possiate trovare altre informazioni e tutte le informazioni necessarie. È un momento topico, è un momento importante per chi come noi aspira a un futuro diverso per la nostra bellissima regione, per il nostro bellissimo territorio e dobbiamo in qualche modo cercare di riorganizzarci e dare forza a tutto questo cambiamento, a tutta questa transizione, a tutto questo periodo di cambiamento che però va fatto in un modo molto strutturato, molto organizzato e soprattutto assieme perché nessuno può rimanere indietro, nessuno deve rimanere fuori, ci dobbiamo organizzare, auto organizzare per far fronte alla crisi che sta avvenendo in modo da far fronte comune, da essere più forti e da avere anche la possibilità di partecipare potenzialmente a dei bandi, di fare forza sulle istituzioni, di fare forza comunicativa verso l'esterno eccetera eccetera. Insomma i motivi per stare insieme sono tantissimi, io con questo video non vi tedio oltre, sono già oltre i sette minuti, quindi vi saluto, io compro Toscano, iscrivetevi, fate iscrivere le persone al gruppo io compro Toscano, non scordatevi del gruppo io soggiorno Toscano che è altrettanto importante, ricordatevi anch'esso di farlo crescere, invitiamo, 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 diffondiamo e al momento compriamo Toscano, usate e mettetevi in contatto con le aziende che si sono iscritte al nostro gruppo per comprare e acquistare i loro prodotti che, ve lo dico in sincerità, sono di altissima qualità. Io ho già testimoniato, ho sperimentato alcune cose e ve le consiglio prossimamente. Ultima pillolina, cercheremo attraverso i video, attraverso visite sui territori di farvi conoscere direttamente le aziende che partecipano e che parteciperanno a questo grande processo di trasformazione dell'economia della nostra regione o almeno ci proveremo. Un saluto a tutti da Ero Stetti e dalla Garfagnana che è la mia terra di origine. Arrivederci!